Giorgio sta salendo su no comunque è in forma e non è che sia non è ferito no potrà che tempo due giorni non è capace di risolvere i problemi si bella velo se non si rompa guarda guarda adesso è il sistema guarda 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 Dove è? Dove è? Dove è? Stai assendo a su, vero Gio? E' nella punta di quel ramo Assenti? No, non sta assendo No, no, si preoccupa L'ha frenato l'albero No, no, ma non si fa L'hai visto il lancio che fa? Ma non si fa niente